Vedrai come le accelerazioni, le frequenze di Scalo bruceranno, è nata per cura tenta e tutto per tutto non riesce mai a vincere una grande gara, è nata per cura che ha vinto soltanto a Tokyo i campionati giapponesi quest'anno in 27.52 e 4. Vedrai come lo dica Scalo, lo affianca, Bitok non ha lo stesso allungo di Scala, anche Bitok gli viene dietro, leggero, non lo so se Scala vince questa gara con Bitok. Bitok lo deve attaccare adesso, non può aspettare, è mezzo norvegese, il marocchino Calizze Ska, tutta la folla, le 25.000 persone del Bislett ad incoraggiarlo, si volta a controllare la situazione, è preoccupato, cerca l'allungo di nuovo, aumenta le frequenze Bitok, la risposta di Ska, ancora mancano 20 metri, niente da fare, guarda indietro per controllare la sua seconda posizione. 13.08.91, miglior tempo mondiale della stagione, al terzo posto l'ottimo nata, va di cura che sicuramente si è migliorato, poi Thibaut, Anton, poi Pinto, Pinto e poi Alvorsen, Alvorsen e vediamo l'arrivo di Gotti.